Fattori non genetici Più nel dettaglio, avremo fattori Fisiologici, età, sesso e peso corporeo Patologici, patologie di diverso genere ma soprattutto a livello epatico, per l'interazione metabolica di questo organo con i farmaci Ambientali, dieta, alcol, fumo e cosomministrazione di altri farmaci Genetici, precisamente la presenza di polimorfismi, argomento di questa lezione Grazie 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 Grazie